Ore d'ansia e circolazione completamente bloccata questa mattina in via di Monale intorno alle 10 a causa di un'allarme bomba che per fortuna si è poi rivelata infondata. Tutto è iniziato con una chiamata ai carabinieri che ha segnalato un'auto sospetta parcheggiata davanti ai negozi e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno transennato la via e sgomberato le attività commerciali della zona. Dopo che polizia carabinieri e polizia municipale hanno isolato l'area sono intervenuti gli artificieri per controllare il contenuto dell'automobile, un'Audi nera. Particolare attenzione alle parti sotto la vettura dove con uno speciale specchietto si è verificato che non vi fossero ordigni. Si è poi passati a controllare le altre parti dell'auto e le ricerche di eventuali bombe hanno dato esito negativo. Intanto, dietro il nastro segnalettico che delimitava la zona, alcuni cittadini si sono fermati per vedere ciò che accadeva. La preoccupazione non mancava di certo, visti i tragici fatti di queste ore a Bruxelles. E proprio la psicosi potrebbe essere all'origine della chiamata effettuata ai carabinieri per segnalare l'auto. Non va però certo escluso lo scherzo poco simpatico di qualcuno.